Goalmania.it La bufala sulle voci che vedebbero Balotelli a Napoli in una presunta intervista di Balotelli sul Radio Radio. Questa intervista in realtà è stata rilasciata da Gianfranco Brutinar con ammissione dello stesso a striscia alla notizia. Questo ha creato stupore anche perché sui giornali dopo questa finta intervista di Balotelli a Radio Radio effettivamente i giornali gli avevano dato un peso forse anche eccessivo con queste dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter che lo vedebbero appunto vicino alla piazza Campana. Proviamo a vedere un pochettino cosa ci può dire Mino Raiola su questo scherzetto, vediamo un po' programmato, insomma su questa rivelazione data, ripeto, a striscia la notizia. Un attimo Mino Raiola? Dipende chi è? Parlo con Mino Raiola? Con chi parlo? Scusi ti strugo, sono del Chiara, direttore di Gommaglia.it, buongiorno. Lei è di? Direttore di Gommaglia.it, buon pomeriggio Raiola. Buon pomeriggio. Sì no, non volevo rubarle altro tempo, volevo dirle se lei era a conoscenza di questa intervista a fasulla di Balotelli a Radio Radio, era un comico, come hanno ammesso a striscia la notizia, lei era a conoscenza di questo? Era un comico a Radio Radio, mia intervista nel comico. Ah no, perché ripeto, a striscia la notizia hanno detto che ha creato stupore dallo stesso Mino Raiola, ecco perché l'abbiamo contattata. Di che cosa? No, a striscia... Mi dica, mi dica. Io quando l'avrebbero fatto questa... Allora, le dico, il 15, quindi in pratica ieri, a striscia la notizia hanno appunto ammesso che questo un certo Gianfranco Butinar avrebbe rilasciato una dichiarazione a nome di Balotelli, insomma un'imitazione su Radio Radio che l'avrebbero voluto al Napoli. E appunto questo ha creato stupore tra i giornali e anche stupore a voce di Mino Raiola o vero lei, ecco perché l'abbiamo contattata per vedere se era vero oppure no. Non so neanche che c'è stata questa cosa, quindi è tutta una grande bronzata. Ah, quindi non è vero nulla. E sul futuro di Balotelli e Ebrahimo ci si può dire qualcosa, Raiola? Su che cosa? Sullo futuro di Balotelli, insomma... Senti, dai, vado a preoccupare il tuo tempo con altre cose, dai. Va bene, la ringrazio infinitamente. No, grazie. Ok, insomma, noi sappiamo quanto è impossibile parlare con Mino Raiola, lo sappiamo benissimo, perché ovviamente è un procuratore importantissimo ed è impossibile anche rivolgere Raiola insomma, anche un paio di domande. Quindi abbiamo... Ho voluto, insomma, valutare e vedere un pochettino la situazione di questo scherzo di Radio Radio. Ho provato anche a strappare una battuta sul futuro di Balotelli e magari Ebrahimović o qualche piccola battuta, ma sapevo che era praticamente impossibile. Posso di tenermi soddisfatto e niente. Quindi non sapeva nulla di questo scherzo, quindi questo, tra virgolette, giallo continua. Antonio De Chiara, Golmania.it Grazie. 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 Grazie.